Ciao, dalla bellissima Firenze vi invito questo sabato a venire a Punta Sieve all'ore 17 alla sede dell'Associazione Archeosofica ad un incontro dal titolo Il Lato Nascosto della Musica. Ci sarò io che vi suonerò qualche bel pezzo e ci saranno anche delle sorprese. Però non ditelo a nessuno, è un segreto!